Salve a tutti e ben ritrovati all'Agri Week Recap. In questa settimana ci sono state tante novità, si iniziano a vedere anche i primi risultati per il settore bufalino, per esempio, dopo l'audizione che abbiamo avuto in consiglio regionale, una proficua audizione alla quale ho avuto modo di illustrare tutti i passi che sono stati compiuti nelle ultime settimane, soprattutto dopo il periodo di condivisione con gli operatori del settore. È arrivata qualche ora fa anche la notizia da parte del Ministero di condivisione sostanzialmente del piano che abbiamo messo in campo, che prevede sostanzialmente tre attività, la riduzione dei tempi di diagnostica, maggiore autocontrollo e vaccinazione. Per questo ultimo aspetto il Ministero ovviamente ci chiede di aspettare l'esito da parte della Commissione europea, ma questa è una procedura prevista dai regolamenti. Uno degli incontri più importanti, anche in visione prospettica, è stato quello con Mario Morcone, l'assessore alla legalità della Regione Campania, con il quale abbiamo messo in campo iniziative relativamente alla banca delle terre confiscate. Abbiamo parlato soprattutto, anche con Gianni Allucci di Agririnasce, della Balzana e delle attività del polo dell'agrinudotraceutica che deve nascere in quella sede, così come abbiamo anche parlato dei requisiti etici che devono avere tutte le aziende agricole che si apprestano a ricevere fondi pubblici dal punto di vista del contrasto al caporalato. Importante è stato anche l'incontro avuto con le associazioni di categoria sul progetto multimisura del FEAMP, sul marine litter e quindi sul riciclo della plastica a mare. Un progetto davvero ambizioso che pone anche qui la Campania all'avanguardia e che sta vedendo il coinvolgimento di tantissimi comuni. Per adesso hanno già aderito circa 25 comuni. Siamo davvero in una proiezione molto positiva dal punto di vista della tutela ambientale e della vicinanza ai pescatori. C'è stata la riunione della CIPIA nella quale abbiamo sostanzialmente parlato di alcune misure per il settore vitivinicolo, c'è stata grande condivisione e abbiamo anche iniziato ad avviare la discussione non solo sulla gestione del rischio ma anche sui criteri di riparto. C'è stata anche una comunicazione da parte della Commissione europea che pospone un poco l'avvio del nuovo PSR di qualche mese. Abbiamo ancora un po' di tempo ma dobbiamo stare sul pezzo. Continuano intanto i lavori sull'Ageac. Abbiamo avuto una riunione con Massimo Bisogno per il responsabile per la transizione digitale della nostra regione per parlare di sistemi informativi e di come meglio attuare il nostro organismo pagatore. Ma c'è stata anche una riunione operativa con tutto lo staff dell'assessorato per individuare un po' tutte le cose che i famosi things do che dobbiamo mettere in campo e sono ben 50 documenti che dovremo poi portare all'approvazione in astrettissimo giro. Abbiamo fatto tante riunioni, ho incontrato tutti i team di lavoro delle singole misure per valutare al meglio i criteri di selezione per le varie misure. Abbiamo anche avuto un tavolo verde con il quale abbiamo condiviso il lavoro fatto e abbiamo anche ricevuto alcuni degli ulteriori input che ci sono stati dati. Quindi in sostanza una settimana che ritengo essere stata molto positiva per l'agricoltura di questa regione. Stiamo cercando di essere presenti su tutte le questioni e quindi sono contento. vi lascio, ci vediamo la prossima settimana. Il saluto di questa settimana va a Mariella Passeri che è ancora ammalata di Covid e che speriamo di rivedere presto nei nostri uffici la prossima settimana. Ciao a tutti!